Dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio il 45enne Francesco Tassone, cantante neomelodico Brindisino. Diffida all'azienda dopo le lettere di licenziamento da parte dei Cassa Integrati DCM di Brindisi. Politica in gran fermento a Francavilla Fontana, 18 mesi dalle elezioni amministrative. Ed ancora ben ritrovati, come avete ascoltato dai nostri titoli, il cantante neomelodico Brindisino Francesco Tassone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di uccidere il cognato con una coltellata alla gola. Quando Francesco Tassone incise Cella 31, probabilmente non immaginava che sarebbe davvero finito in carcere con un'accusa gravissima. Il cantante neomelodico Brindisino, 45 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa del tentato omicidio del cognato, accoltellato alla gola lo scorso 24 ottobre e fuori pericolo dopo un intervento chirurgico e un ricovero in rianimazione. La svolta alle indagini è arrivata due settimane dopo il ferimento del 47enne, che all'inizio sembrava misterioso perché la vittima aveva fornito una versione dei fatti totalmente inventata, sostenendo di essere stato accoltellato sotto casa da due giovani dopo una lite per un parcheggio. In realtà, l'episodio era avvenuto sì al villaggio Pescatori, ma all'interno delle scale del condominio, in cui egli vive insieme alla famiglia della sorella da quando si è separato dalla moglie. Ed è emerso che ad accoltellarlo fu proprio il cognato, Francesco Tassone, irritato dal fatto che la vittima avesse rimproverato la nipote 14enne, figlia del cantante, sostenendo che fosse troppo piccola per andare in discoteca, un'intromissione ritenuta inaccettabile e punita con il sangue. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al secondo piano della palazzina. La vittima è stata colpita con una coltellata al collo e una seconda è stata evitata grazie all'intervento di una vicina. Il medico, che ha poi effettuato l'intervento chirurgico, ha dichiarato ai carabinieri che la lama si è fermata a soli due centimetri dalla giugulare. Se l'avesse raggiunta, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Le indagini condotte dal nucleo operativo dei carabinieri di Brindisi, grazie ad alcuni testimoni diretti e una serie di intercettazioni ambientali, hanno consentito di chiarire il giallo del ferimento e di incastrare il presunto colpevole. Tassone, conosciuto in città per essere un cantante neomelodico che conta anche un discreto seguito sul web e che spesso è ospite di feste in piazza in tutta Italia, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP Tea Verderosa su richiesta del PM Pierpaolo Montinaro. L'accusa è di tentato omicidio. È stato rinchiuso nella casa circondariale di Via Appia. Un'auto contro una Sara Cinesca, Brindisi. Tanta paura, per fortuna, senza gravi conseguenze. Tanta paura, ma per fortuna, nessuna grave conseguenza per l'incidente avvenuto nella mattinata di sabato presso il quartiere Commenda, quando un'auto con a bordo padre e figlio ha sfondato la Sara Cinesca del Punto Luce ad angolo tra Viale Aldomoro e Via Giuseppe di Vittorio, danneggiando anche una colonna portante. Ed è stato infatti necessaria una perizia sulla stabilità dell'edificio e da parte dei vigili del fuoco prima di rimuovere la vettura. Si tratta di una BMW XS che, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa contro la Sara Cinesca del locale fortunatamente chiuso il sabato. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Fusion, alla cui guida c'era un anziano. Come detto, però tanta paura per tutti, ma nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. in fase di accertamento da parte della polizia locale le cause che hanno portato all'incidente. Ed è di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto venerdì sera sulla 379 nei pressi di Brindisi a provocarlo l'auto di due pensionati che hanno imboccato contro mano la statale. Un'altra auto che imbocca contro mano la superstrada. Uno schianto terribile, per fortuna senza morti, ma con cinque feriti. Poteva avere conseguenze tragiche. L'incidente è avvenuto venerdì sera sulla strada statale 379 alla periferia di Brindisi, all'altezza del Bosco del Compare. Un'auto con a bordo due anziani, che aveva imboccato contro mano la carreggiata Sud, si è scontrata frontalmente con un veicolo con a bordo tre persone provenienti da Napoli, la famiglia di un nuovo calciatore del Brindisi. Alcuni degli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere ed è stato necessario per estrarli l'intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con due squadre, tra cui un autogru. I feriti sono stati trasportati con tre ambulanze del 118 all'ospedale Perrino. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Il traffico in direzione della circonvalazione di Brindisi ha subito forti rallentamenti, con code lunghe sino a due chilometri. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale. Diffida all'azienda dopo le lettere di licenziamento da parte dei cassa integrati DCM di Brindisi. Immediata la reazione dei cassa integrati DCM ex GSE dopo la notizia di licenziamento collettivo decisata dall'azienda. I lavoratori hanno infatti inviato al liquidatore DCM diffida all'adempimento degli obblighi contrattuali ascrivibili al datore di lavoro e alla contestuale dismissione di condotte definite ritorsive perpetrate ai danni dei cassa integrati. I lavoratori hanno anche sottolineato che però la parte convenuta in via principale del contenzioso giudiziario è la DAR SRL, a carico della quale si invoca la costituzione dei rapporti di lavoro sin dall'originario fitto di ramo d'azienda DCM DAR e in subordine l'obbligo dell'assunzione come da lettera d'impegno della stessa consegnata ad ogni lavoratore. E che, dicono i lavoratori stranamente, resta in assoluto silenzio, affidando proprio al liquidatore della DCM il ruolo di giustiziere dei destini occupazionali degli 81 cassa integrati ex GSE. La richiesta, poi, di mobilitazione al loro sostegno delle parti sociali, istituzioni comunali, regionali e ministeriali, alle quali è stata inviata la nota per intraprendere ogni opportuna iniziativa che eviti dal punto di vista formale quella che viene definita una grave violazione dei fondamentali diritti di incolpevoli lavoratori e da quello sostanziale per l'ennesima condanna al baratro di 81 famiglie brindisine. Politica in gran fermento a Francavilla Fontana a 18 mesi dalle prossime elezioni amministrative. Politica in fermento a Francavilla Fontana. A 18 mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale, due nodi da sciogliere o meglio tre. La nomina del nuovo assessore, le fibrillazioni interne alla maggioranza, le prospettive per un centro-sinistra unito. Per l'assessore il sindaco attende che il Movimento 5 Stelle sciolga le riserve per un ingresso nell'esecutivo. Denunzo potrebbe anche appotare per un esterno. Quanto alle fibrillazioni, farebbero sentire la propria voce gli esponenti fittiani in maggioranza. Comeppure non mancano divergenza all'interno di qualche gruppo politico e tra stessi eleati. Quanto al dialogo invocato, il PD ha invitato il sindaco ad un incontro su alcuni punti, guardando in prospettiva. Da qui richiamo le forze del centro-sinistra. Idea però invita il Partito Democratico ad un cambio di rotta. Da azione arriva un appello, quello di stringere un patto serio tra tutte le forze liberali, democratiche e riformiste. Fabio Zecchino, coordinatore cittadino, bacchette il PD, non condividendone il profilo di comunicazione politica. Politica in fermento con qualche mal di pancia interno alla maggioranza, Francavilla Fontana. Conclusi i lavori in commissione, la riapertura al pubblico del Castello di Oria è pronta ad approdare in consiglio regionale. Dopo il passaggio in commissione, il Castello di Oria, di proprietà privata e chiuso da anni al pubblico, approderà presto in consiglio regionale. L'obiettivo al netto del fallimento della trattativa tra il comune di Oria e la società proprietaria del maniero borgo ducale è di consentire l'apertura del castello, anche forzandola se necessario. D'altro canto, gli stessi proprietari non hanno presenziato alla sesta commissione regionale, preseduta da Donato Metallo. La mancata audizione della famiglia romanina Caliandro ad ogni modo non cambia i piani dell'iniziativa bipartisan, promossa dai consiglieri Maurizio Bruno e Paolo Pagliaro, che in primavera avevano appunto promosso il procedimento per il riconoscimento dell'interesse eccezionale del monumento, ma anche dello stesso borgo medievale della cittadella, che ruota attorno al maniero. Questo sull'asse Oria-Bari c'è però un'altra strada, battuta dalla stessa borgo ducale, che porta a Roma. In questo senso ci sarebbero stati, nelle scorse settimane, contatti tra il ministero e la proprietà del castello. Non è un mistero che la borgo ducale voglia, anche a fronte dell'investimento, utilizzare il castello pure come sala ricevimenti. Una vicenda intricata, lunga oltre un decennio e non è detto che non si debba aspettare ancora. Ed ora ascoltiamo le notizie flash che riguardano il territorio brindisino. Domenica 7 alle ore 11 sarà inaugurata ufficialmente la rotatoria di Viare Madonna delle Grazie intitolata L'Avis, proprio vicino all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla, luogo simbolo di grande valore per i donatori di sangue. All'evento parteciperanno il sindaco Antonio Denuzzo, i dirigenti provinciali dell'Avis, tutte le sessioni comunali della provincia, volontari e soci dell'Avis di Francavilla. Le celebrazioni della giornata dell'unità nazionale lo scorso 4 novembre si sono concluse con il voto all'unanimità del Consiglio Comunale alla proposta del sindaco Antonio Denuzzo di conferire le cittadinanze onorali di Francavilla Fontana al milite ignoto. Un secolo fa, spiegato il sindaco Denuzzo, il milite ignoto veniva tumulato nel saccello dell'altare della patria come simbolo del sacrificio supremo di un'intera generazione. Oggi quel soldato, che all'epoca si volle non identificabile, diventa cittadino di Francavilla Fontana, perché i valori che incarna appartengono ad ogni istituzione e sono parte fondante di ogni italiano. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto comunica la pubblicazione presso il sito internet ad Ecco degli annunci per l'avvio di alle attività di ricerca e selezione di figure professionali, istruttore contabile e finanziario, istruttore tecnico e amministrativo, operaio addetto al monitoraggio e recupero della fauna marina, operaio addetto al monitoraggio e recupero fauna terrestri. Ed è tutto il Tg dedicato a Brindisi e la sua provincia termina qui, brevissima pausa pubblicitaria, focalizzeremo tra poco la nostra attenzione sulla città di Lecce e sulla sua provincia.